Operazione Pasqua Serena riuscita a Lecce dopo la vittoria contro la vice capolista Benevento. A regalare un sorriso alla squadra leccese anche il Foggia vittorioso a Matera. I downi hanno rallentato la fuga in classifica dei Lucani. I rossoneri compattano nuovamente la classifica in ottica playoff e consegnano alla vittoria del Lecce contro il Benevento un significato ancora più importante di quello che poteva ugualmente essere. La squadra di Bollini occupa oggi la quarta posizione a braccetto con il Matera, tre sole lunghezze dalla Juve Stabia che invece continua a sostare sul gradino più basso del podio. Giochi dunque riaperti a cinque giornate dal termine della regular season con un occhio puntato sulla casertana che in seguitrice ad un punto di distanza deve recuperare una partita. Occorre però restare realisti e concentrati in Casalecce il cui rendimento necessita di continuità per godere della giusta serenità. In dieci match con Bollini sulla panchina giallorossa il Lecce ha infilato sei vittorie e quattro sconfitte. Il tecnico ha dato prova della sua capacità tattica nel match con il Benevento chiamato a ridisegnare la formazione per le troppe assenze. Bollini ha messo in campo una squadra che ha espresso un sistema di gioco capace di disorientare l'avversario, certamente di spessore, e di fare dei giovani il punto di forza. Sarà dunque una Pasqua serena per il Lecce che si gode un momento favorevole grazie anche e soprattutto a questo gol di Papini. Il centrocampista si sta rivelando sempre più determinante nello scacchiere tattico giallorosso per qualità e quantità.